Fermo! Fermo a diritto! Come stai, Fulvio? Va bene, prendiamolo! Ciao, ciao, portafoglio! Schermata per schermata escono le caratteristiche dei vari tipi di armi. Attenzione, è tratto un disturbo, là è sospeso. Attenzione, attento, forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Aspetta Marco! Io c***o che c'ho fatto, non spara! Non spara? No! Scusa, ma... Alfa, l'andà via! Allo sporco! Allo sporco! Allo sporco! Sì, ho visto? Dopo quella casa lì? Oggi è che c'è uno che corre! C'è uno che corre! Vai, anichilisci lo porco zio! E' uno che corre! Guarda, tu! Stanno uscendo dalla macchina e stanno scappando! Vai, vai! Atto! E' un po' di! E' un po' di! P***a! E' un po' di! 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 Ecco, questa era la parte più cospicua! Felipe Materazzi e Motta D'Astuzia gli porta via la palla Cristiano Zanitti D'Astuzia Eugenio, fermati! ASTU digestione Iscriviti ASTU A A esta edat Fai un culo